Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Partiamo con l'immagine da satellite che ci mostra l'Italia con un tempo più stabile. Infatti la situazione è andata migliorando anche al sud, salvo una residua variabilità sul Salento, ma comunque il contesto è più asciutto e soleggiato. Anche se la nuvolosità torna ad aumentare a partire dal nord perché da questa sera arriva un'altra debole perturbazione che poi nel corso di giovedì si muoverà rapidamente verso le regioni del sud. Infatti la giornata di giovedì sarà decisamente più instabile ancora una volta sulle regioni meridionali perché tra questa sera e la nottata qualche pioggia comunque giungerà sulla Valpadana orientale, sulla Toscana, ma poi questa veloce perturbazione attraverserà il sud nell'arco di giovedì soffermandosi qui e portando pioggia a carattere sparso, anche qualche temporale e deboli nevicate sull'appennino meridionale a partire dai 1200-1400 metri di quota. Il tutto accompagnato dal nuovo rinforzo della ventilazione settentrionale e da un calo delle temperature, specie su basso, versante adriatico. Nel frattempo però questo campo anticiclonico a ovest del nostro paese tenderà a rimontare a partire da venerdì e nel corso di sabato, favorendo quindi una maggiore stabilità sul nostro paese, anche se nella giornata di domenica giungerà un'altra perturbazione che riporterà il maltempo sul centro nord, con piogge più estese e nevicate sull'arco alpino. Ma per maggiori dettagli, come sempre, consultate l'app di Trebi Meteo.